ciao a tutte questo è il pacco che mi è arrivato da bottiga verde qui adesso lo apriamo allora essenza di fiori per il bagno bellissimo kit con tre bagno schiuma ed una spugnetta poi ho preso le salviettine struccanti della linea biologica siero seno effetto lifting non l'ho mai provato questa sarà la prima volta poi la crema per il corpo elasticizzante linea corpo rassodante scolpito lo spray elasticizzante rassodante sempre linea corpo rassodante scolpito poi rossetto rosa intenso della dream collection eccolo qui lo apro vabbè non si apre non fa niente comunque rossetto rosa intenso della dream collection questo forse riesco a farvelo vedere riesco ad aprirlo eccolo qui caduto vedete io faccio anche la collezione delle bottiglie una volta che è finito il profumo bella anche la confezione dream collection questo poi come omaggio mi hanno regalato questa borsa firmata bottega verde di raso bianco questa pochette insomma no borsa carina a vedere meglio poi questo coniglietto bagno doccia al profumo di fiori bottega verde e poi sempre come omaggio mi hanno dato questa sveglia questo orologio sveglia insomma di bottega verde è stato imballato c'era scritto c'era scritto l'orologio sveglia da viaggio e poi mi è arrivato questo catalogo bon prix non ho mai comprato nulla quassù non lo so ecco qua ecco qui questi sono stati i miei ordini ciao ciao ciao